L'azione della Polizia Municipale di Figline Incisa è stata sempre attenta e puntuale fin dal primo momento dell'inizio di questa pandemia, anzi vorrei dire proprio nel primo momento, quando nel momento del lockdown si è chiesto ai miei collaboratori un qualcosa di più, un qualcosa che andasse incontro a soluzioni che potessero essere date al problema causato dalla pandemia, la risposta da parte del Comando è stata sempre precisa e puntuale e penso che il lavoro svolto sia stato in questo senso. A questo chiaramente si è sommato tutta quella che è stata l'attività ordinaria svolta durante l'anno, che numericamente è stata molto simile a quella degli anni precedenti, con attenzione certamente massima nei confronti della pandemia e di tutte quelle regole che sono arrivate dal momento che questo problema si è verificato. Le sanzioni sono aumentate, sono diminuite? Le sanzioni sono rimaste più o meno stabili sotto questo punto di vista, quello che è aumentato è stata la presenza sul territorio, è stato un ingente numero di posti di controllo, di identificazione delle persone e delle acquisizioni e delle motivazioni per cui dovevano in qualche modo dimostrare la validità del proprio spostamento. Quindi sicuramente a un numero più o meno simile rispetto agli scorsi anni si è sommato un'attività senz'altro più massiccia e molto più insistente nei confronti del territorio. Qualche caso particolare di violazione delle norme anti-Covid? Casi particolari, nel senso vero della parola, non ce ne sono stati. Certamente è sempre singolare che quando si vada a contrastare una violazione di qualche tipo o di qualche sorta, compreso le violazioni Covid, le giustificazioni sono sempre numerose da questo punto di vista. Ciò detto, va anche riferito che la comunità di Filline, soprattutto nel primo momento, ha risposto in maniera egregia a questo tipo di problematica e conseguentemente ha facilitato anche l'operato e il lavoro della Polizia Municipale.